Allora, vi raccontiamo oggi cos'è il nostro Club in Cruises, come funziona e tutto quanto. Quindi vi chiedo di intanto ascoltare, poi se avete le domande intanto segnateli e dopo la presentazione vi potete scrivere o parlare a voce come preferite. Durante la presentazione magari tenete i microfoni chiusi perché a volte ci sono delle interferenze. Ok, io vedo a chi posso, si spengo io i microfoni, quindi scusate, dopo vi accendete. Così tutti quanti potete ascoltare senza interruzioni. Allora, possiamo dire che finalmente Club in Cruises è arrivato anche in Italia. In Cruises è un club americano di crociere. In realtà è un modo intelligente di viaggiare. Quindi chiunque iscrivendosi può andare in crociere con lo sconto minimo del 50%. In più ci sono le condizioni con le quali si può ottenere le crociere in omaggio. E non solo, diventando il rappresentante del club, il partner, si può lavorare e guadagnare nel settore delle crociere. Ognuno può fare la sua scelta. Quindi è adatto assolutamente a tutti. Adesso vedremo un po' in dettaglio. Quindi qua due parole proprio sulla direzione del club, quindi chi sono le persone che l'hanno creato. Quindi qua potete vedere a sinistra il Michael Hutchison, che è il fondatore e amministratore delegato. Il club è stato fondato nel gennaio del 2016, che è di buona due anni. E la sede centrale si trova a Miami. Michael Hutchison è famoso nel settore di business, nell'ambito di sviluppo delle aziende, nella fase di start-up. Quindi la creazione e sviluppo delle idee, arrivare all'azienda di successo. In più, il club in cruises è registrato presso l'associazione di crociere CLIA, e Cruise Lines International Association, dove sono registrate tutte le linee crocieristiche e operatori grandi. Quindi anche il nostro club, con questo numero CLIA, è registrato presso queste associazioni. Quindi questo dice che comunque il club è riuscito a soddisfare tutti i requisiti che pone in questa associazione. Poi a destra vedete tutta la squadra dei suoi esperti, quindi esperti finanziari, esperti del settore di turismo, legali, quindi persone. Poi noi li abbiamo già conosciuti anche di persone, perché a parte che quando abbiamo festeggiato il primo anno anniversario li abbiamo conosciuti là, poi anche loro vengono in Europa una o due volte all'anno per fare le crociere insieme. Quindi anche voi potrete conoscerli. O in realtà anche prima potete andare a ascoltare anche il webinar direttamente da Miami, se parlate inglese o spagnolo. Allora, poi possiamo dire che anche tra le collaborazioni importanti di Michael Hutchison è quella con Tony Robbins. Quindi è un coach, un mental coach, un esperto molto famoso nelle sviluppe personale. È stato consulente anche delle persone molto famose in tutto il mondo, di Calibro, di Bill Clinton, Michael Gorbaciov e anche di Donald Trump. Quindi lui tiene anche vari corsi di marketing, di vendite dirette e in genere di sviluppe personale. Quindi è stato, sembra anche già anche in Italia, è stato anche in tanti paesi. Quindi qua il club opera nel settore di turismo e nello specifico nell'industria di crociere. In genere il turismo comunque è un settore in crescita che in tutto il mondo ha 8 miliardi di euro, quindi è un settore molto importante. Le crociere è un argomento che è comunque in crescita. Ogni anno investono comunque dei soldi investitori in questo settore e vengono costruite nuove navi da crociera. Quindi le persone in tutto il mondo adorano viaggiare, vedere altri posti e spesso viaggiano ovviamente con le famiglie, amici, in compagnia. Quindi il potenziale del mercato è molto grande. Grazie. Ilona, non si sente? Ok, adesso? Si sente? Adesso sì, prima no. Ah, ok. Si sente meglio adesso. Ok, quindi inclusi in innovazione nell'industria delle crociere seguendo l'esempio di successi di altri settori che sono comunque un po' in parte collegati al turismo, come Airbnb, sono gli alloggi privati, dove la persona, qua sono due persone, per esempio le persone private mettono a disposizione i loro alloggi, appartamenti o le stanze e i turisti scelgono Airbnb piuttosto che albergo tradizionale perché hanno un risparmio. Quindi qua tutte e due le parti rimangono contenti, quindi una ha guadagnato, l'altra ha risparmiato. Lo stesso sistema con applicazione Uber è un taxi privato, quindi profitto va anche la persona privata, l'autista, quindi l'autista ha guadagnato e la persona che ha preso un passaggio con Uber, tramite Uber piuttosto che un taxi tradizionale, ha risparmiato. Lo stesso è in cruises, quindi i partner rappresentanti del club invitano altre persone, inventano membri, i membri rimangono contenti perché iscrivendosi loro usano il sistema, il club in cruises per accumulare e alla fine avere qualsiasi crociera con lo sconto del 50%, quindi anche qua tutte e due le parti rimangono contenti. Uno che promuove del club, che diventa partner e un'altra persona come, diciamo, solo turista che diventa il socio, accumula e ha tutta la scelta di crociere sempre con il suo grande risparmio. E poi un'App Store, anche qua l'idea è quella di mettere a disposizione a basso costo o addirittura, c'è tantissime applicazioni per tutti, quindi grande accessibilità a grande numero di persone. Quindi questa è l'idea e innovazione. Sicuramente tutti di noi abbiamo o vogliamo qualche sogno dove vogliamo andare, abbiamo una volta di sicuro pensato che un giorno sarebbe bello andare da questa parte o sicuramente abbiamo dei posti dove vogliamo ritornare ancora. Quindi oggi le navi da crociere sono bellissime, sono modernissime, hanno tutti i comfort, hanno di tutto e di più, come piccole città galeggianti, come alberghi di 4 o 5 stelle. E oggi le navi arrivano veramente ovunque. Con una nave di crociere si può raggiungere qualsiasi parte del mondo, quindi Nord, Sud, le Americhe, i Caraibi, tutto il Mediterraneo, tutto il giro, quindi in Asia, veramente dappertutto. Quindi è molto molto comodo perché ci sono dei posti dove magari vorrei andare tanto però so che chissà quando riuscirò a organizzare quel viaggio. Quindi invece con la crociera in viaggio possiamo visitare tanti belli paesi dove magari prossima volta vorremmo ritornare o altri saremo contenti di vedere intanto una volta. Poi qua possiamo vedere che il club collabora praticamente con le navi da crociera più famose e più importanti. Quindi c'è l'Aeroyal Caribbean, M.C. Cruz, Salzamara, Costa, Princess Cruises, Carnival, Cunard, Disney Cruises Line che sono in America bellissime per le famiglie che spero mandarci anch'io. Poi c'è Norwegian, Celebrity Cruise, quindi praticamente tutti più importanti. Quindi tramite il club possiamo prenotare qualsiasi di queste crociere, di queste compagnie. Quindi la scelta è molto molto grande. Poi passiamo a dire qua, potete vedere che già la diffusione del club in realtà in due anni si è diffusa molto molto di più rispetto a quelle che prevedevano loro. Già primo anno e secondo anno addirittura la quantità dei soci è aumentata di 500%, quindi veramente tanto. Quindi sono già, le persone viaggiano, ci sono i partner in tutto il mondo. Ci sono tanti anche in Russia, in Kazakia, stanno addirittura lontanissimo, ma erano una destina di persone in crociera con noi in novembre, erano più di dieci persone e tutte eravate da lì. Poi in Europa, possiamo dire che come avete visto un piccolo video prima, era uno, come avevo scritto, da convention, anniversario da Miami, e un altro era un gruppo spagnolo, che è un gruppo di giovanissimi, sono tantissimi. Sono di Valencia, Barcellona, poi altri. Quindi poi da qua, anche partito da, in realtà, da Alto Adige, e dopo fino a Germania, anche in Germania, ci sono tantissime persone, chi è partner, chi è solo socio, chi viaggia, chi lavora e viaggia, quindi tantissime. Ci sono le persone ormai dappertutto. E a noi che abbiamo fatto, anche io ho fatto due crociere, mia mamma in un anno e mezzo ha fatto quattro, e ho già anche io, solo io da questi due crociere, ho già anche nuovi tantissimi amici, chi da New York, praticamente sì, chi di nuovo è il Kazak, chi sta in Germania, ho tanti nuovi amici in Spagna, quindi adesso è l'ora, quando sarà la prossima crociera, dove possiamo incontrarci di nuovo, con altri soci del club, quindi anche questo, aspetto molto molto bello. Quindi condizioni generali per i soci, per i membri, quindi iscrizione nel club è gratuita, potete iscrivervi e diventare il membro, socio del club, e si apre una specie del conto salvadanaio, col tabbonamento, e basta. Una persona non paga niente, e mette solo ogni mese da parte, la sua quota per, come salvadanaio, per la crociera, perché ovviamente è un club di crociere, quindi non si parla qua di, non è un banco finanziario o qualcosa, è proprio un club di crociere, quindi si mette da parte solo per la crociera, e per i soci, per i membri, non c'è nessun altro pagamento, quindi neanche un euro si paga extra. Quindi, semplicemente, ogni mese si fa il versamento di 100 dollari, sul proprio conto, avete la vostra pagina, i vostri back office, poi ogni 100 dollari si trasformano in 200 cruise dollari, cruise dollari è una specie di valuta interna con la quale dopo acquistiamo le crociere. E quindi con questa formula, 100 dollari sono uguali a 200 cruise dollari, tutte le crociere per i soci diventano, con lo sconto del 50%, poi i cruise dollari non hanno una scadenza, quindi veramente è molto molto conveniente, perché possiamo fare qualsiasi scelta, possiamo fare in anticipo, programmare la vacanza, la spesa anche viene spalmata, in più con lo sconto 50%, quindi qualsiasi di tutte quelle compagnie che avete visto, con il club, con il quale il club collabora, si può scegliere tutto, quindi non c'è bisogno più di andare a cercare delle offerte, super offerte, e vedere se riusciamo, possiamo accontentarci o comunque no, vogliamo continuare a cercare qua. In anticipo sappiamo, qualsiasi nostra crociera, la nostra scelta, qualsiasi porta, qualsiasi destinazione, durata, tutto quanto, possiamo scegliere noi, il nostro sconto lo abbiamo sempre. Quindi basta iscriversi, accumulare e scegliere la crociera. Quindi per i soci è veramente semplicissimo. Quindi per questo il club è adatto a tutto. Primo per le persone che vogliono viaggiare, ma le crociere risparmiano. Secondo, ci sono anche le opportunità per le persone che vogliono diventare partner, quindi o semplicemente per avere un piccolo reddito extra, o solo per avere le crociere in omaggio. O qualcuno invece poi decide o da subito vuole anche specializzarsi proprio in questo settore e dedicare tempo e vederlo come suo lavoro. Ognuno può fare la sua scelta. Quindi praticamente i partner, anche i membri, secondo momento, possono diventare rappresentanti. Quindi rappresentanti ovviamente devono promuovere il club, quindi invitare le persone, o diventare soci per viaggiare o anche per lavorare, come noi. In questo caso, diventando partner, partner member, è sufficiente invitare soltanto cinque altri membri nel club per avere le crociere in omaggio. In questo modo, la nostra quota con cinque persone viene coperta dal club. E in un anno si accumula 2400 cruise dollari per la crociera. Quindi è veramente bello, perché solo con cinque amici, perché in realtà altre cinque possono essere nostri familiari, possono essere nostri amici, perché spesso viaggiamo con gli amici. In questo caso, solo con cinque persone, la nostra quota mensile verrà aperta. Nel mese vedremo di aumentare sul nostro conto di 200 cruise dollari. Quindi è davvero bello. Era fantastico quando abbiamo visto che ogni mese aumentavano, poi quando abbiamo presentato la crociera. Veramente bello, anche perché è veramente facile, perché basta condividere con cinque amici un'offerta, una bellissima occasione, un'opportunità molto bella. Quindi, quelle che in realtà facciamo comunque, quando troviamo qualche occasione, condividiamo sempre con i nostri amici. E quindi qua, invitando cinque, condividendo, l'offerta non dovremo più versarla nella nostra quota mensile. accumulare e alla fine avere la, accostare la crociera. Quindi, con Incruzis veramente, permette di realizzare il sogno di chiunque. Quindi, anche le persone che magari, perché qua, le potete accostare qualsiasi durata della crociera, una o due settimane, quindi avere sempre il vostro sconto. Quindi, va data per tutti. Quindi, tutti possiamo fare anche il giro del mondo. Quindi, l'idea è fantastica. Quindi, il club offre la possibilità di vedere qualsiasi posto del mondo, senza essere preoccupati più per la spesa, per il costo. e non solo, i partner possono avere i viaggi in omaggio, qualsiasi, anche queste crociere lunghissime, in più, possono costruire anche la propria carriera qui, in questo settore. È un settore comunque molto bello. C'è anche il fatto che investono, ogni anno costruiscono nuove navi, questo comunque dice che il settore cresce, perché sono praticamente alberghi di lusso, cinque stelle, dove tutto è incluso, ci sono i ristoranti, c'è il divertimento ogni sera, la mattina vi svegliate e vi trovate in una nuova città o magari su una bellissima spiaggia o un altro paese, veramente, veramente bello. Quindi, l'idea che hanno sviluppata è bellissima, perché il prodotto, quello che offrono è fantastico, perché, non lo so, secondo me, a chiunque proponi, si vuole avere una vacanza in omaggio ogni anno, non so se c'è qualcuno che può dire di no. Quindi, adesso, quella era la parte che riguardava solo i soci, quindi, con l'iscrizione qua, su questo slide si può vedere tutti e tre modi per partecipare, per far parte del club. Praticamente, primo, è quello socio, diventare socio, non costa niente, bisogna solo mettere da parte 100 dollari ogni mese per la futura crociera, sul conto trovate 200, quindi, c'è questo sconto 50%. poi, seconda opzione è l'opzione del partner, quelle di solito sono le persone che per qualche motivo non possono muoversi, quindi, scelgono questa opzione per lavorare solo da casa e basta, quindi, non pensano, non possono viaggiare. In questo caso, i partner hanno la quota di attivazione che primo anno si paga 195 dollari per avere tutti gli strumenti per lavorare, quindi, dal computer il back office, tutti i documenti, arrivano poi anche le email dall'azienda che aiuta, quindi, tutto quanto, ci sono anche i webinar aziendali, quindi, tutti gli strumenti. Poi, l'ultima opzione è quella più diffusa per diventare sia partner che member. In questo caso, si attivano tutti e due, diciamo, le licenze del partner primo anno, sempre 195 e si diventa anche il membro, quindi, primo mese si paga 295, si fa il versamento e sul conto avete comunque già 200 per la crociera. Per esempio, secondo mese versate altri 100 solo del membro e in due mesi avete versato 295 più 100, quindi sono 395 dollari e sul vostro account trovate 400, quindi si può vedere così che i primi due mesi il vostro importo non viene raddoppiato, però avete accumulato, iniziato a accumulare per la vostra crociera scontata, in più, essendo il partner, invitando le altre persone arriva, quando arrivate a 5, quindi avete anche questa, le crociere in omaggio per l'importo 2400 all'anno, tutto quello che si accumula a 200 cruise dollari al mese. Ecco, su questo slide invece potete vedere utilizzo di cruise dollari, in questo caso parliamo di semplici membri, quindi qua come funziona, quindi il club premia la fedeltà, quindi è comunque come un abbonamento che mettete della vostra quota per accumulare per la futura crociera, quindi questo qua faccio sempre esempio della palestra, che per risparmiare nel palestra possiamo fare abbonamento annuale, però dobbiamo versare subito tutta la quota per intero anno, per avere la mensilità che costa di meno per risparmiare. Lo stesso fa il club, praticamente, chiede abbonamento annuale, però non lo chiede subito in un'unica rata, quindi ci fa lo stesso pagare, versare solo ogni mese la nostra piccola quota, garantendo sempre il nostro sconto 50, però ovviamente ha bisogno di qualche garanzia che noi rimaniamo in club per un anno, quindi se è un abbonamento annuale serve una specie di deposito, in questo caso l'hanno fatto così, praticamente durante il primo anno di permanenza nel club, i soci possono utilizzare 60% di cruise dollari accumulati, altri 40% rimangono per la prossima crociera che può essere fatta sempre anche nello stesso anno, o aspettate altri qualche mese per accumulare, inizio a seconda, quindi comunque quando volete, quindi non hanno scadenza. Per esempio, se in 5 mesi avete messo da parte 500 dollari, solo count trovate 1000 cruise dollari, da questi 1000 potete usare 600 per la vostra crociera, 600 sono comunque sufficienti per acquistare una crociera, e quindi acquistando la crociera con cruise dollari, la acquistate comunque con lo vostro sconto del 50%, in più vi rimangono altri 400 cruise dollari per la prossima crociera, o lo stesso o prossimo anno, se potete farlo quando volete, quindi primo anno si utilizza 60%, appena inizia il secondo anno, la percentuale già sale, quindi perché il club preme la fedeltà, potete utilizzare da quelle 1000 potete utilizzare già 700, poi passano due anni dal primo mese del terzo anno, potete utilizzare già 80%, quindi 80% è già tanto, perché in realtà noi che possiamo già utilizzare anche tutti 100%, lo stesso quando acquisto la crociera qualcosa mi rimane lo stesso, quindi o devo usare il deposito o non lo devo lasciare, comunque qualcosina mi rimane lo stesso, quindi dopo in realtà non influisce più niente, quindi giusto il primo anno un po' di pazienza per accumulare, per poter acquistare la prima crociera, perché dopo la seconda e terza ormai qualche importe rimane lo stesso, perché pagate la crociera e a voi sul vostro conto rimane qualcosa, quindi sempre vostro per la prossima, quindi nel senso che dopo non c'è bisogno neanche di controllare quale percentuale abbiamo, quindi durante il terzo avete 80%, durante il quarto non va all'inizio del quinto anno anche semplici soci che non sono partner, quindi solo membri, possono usare tutti i 100% subito per la loro crociera, quindi possono andare in crociera prima, quindi anche per esempio in tre mesi hanno accumulato 600 cruise dollari, possono andare subito in crociera, quindi vanno prima. Poi qua vi spiego come i modi, tre modi per utilizzare tutti i 100% dei cruise dollari accumulati subito e quindi offre queste possibilità. Allora, il primo è come è stato spiegato, i membri arrivano al quinto anno e usano tutti i 100%. Seconda opzione è per partner membri, quindi si può ottenere la quota mensile gratuita invitando cinque persone e dopo che siete membro gratuito per tre mesi consecutivi potete acquistare una crociera, quindi dovete invitare cinque persone, diventare socio gratuito, quindi non dovete più versare la vostra quota e dopo tre mesi potete acquistare la vostra crociera, quindi in questo caso per partner membri si può utilizzare, acquistare una crociera all'anno utilizzando il 100%, poi l'altro importo che vi rimane usate sempre la vostra percentuale, non so 60-70% quella che è. e il terzo modo raggiungendo il primo titolo del leader quindi si può fare carriera diciamo nel club poi vedete come dopo da quel momento in poi potete utilizzare 100% di vostri cruise dollari per tutte le crociere che volete quindi potete fare due, tre, quattro ecco dipende da voi. Allora qua passiamo già vi spiego il piano marketing qua è molto facile molto trasparente si non serve neanche calcolatrice per riuscire a capire tutto quindi è tutto molto facile ecco praticamente ci sono 10 modi 5 per guadagnare in contanti e 5 per avere i bonus in cruise dollari quindi per avere più cruise dollari per i nostri viaggi quindi prima ci sono bonus istantanei quelli che si pagano subito in giornata dentro 24 ore poi ci sono bonus settimanali c'è il reddito passivo giornaliero e poi ci sono i bonus dei leadership e poi altri incentivi per guadagnare cruise dollari ecco vediamo qua il primo bonus istantaneo per i partner praticamente i partner appena iscriviamo un nuovo partner member nella nostra squadra riceviamo bonus istantaneo di 50 dollari sì di solito questo arriva dopo qualche ora però loro riscrivono massimo entro 24 ore arriva sul nostro portafoglio elettronico questi 50 dollari che dopo li possiamo trasferire sulla carta prepagata poi per la seconda persona partner member che viene invitata nello stesso mese qua parliamo di un mese calendario adesso in marzo seconda persona che iscrivete guadagnata 60 per la terza 70 per la quarta 80 fino all'importo massimo di 150 dollari per invito di una persona quindi questo per la decima per un dicesima dodicesima sempre il massimo 150 quindi in questo modo per esempio se invitate 5 partner member in un mese avete guadagnato 50 70 70 80 90 quindi guadagnate 350 dollari in più per ogni 5 persone si ottiene anche il bonus produzione producer bonus sono 250 cruise dollari che vanno per la crociera per acquisto della crociera e quindi poi finisce il marzo inizia mese di aprile e riparte tutto da capo per il partner member che avete invitato per il primo 50 per il secondo 60 e così via quindi questo è il bonus istantaneo qua ecco in effetti il producer bonus quindi si guadagna per ogni 5 persone se iscrivete 10 partner member nello stesso mese guadagnate 500 quindi non c'è limite quindi iscrivendo 5 partner member nello stesso mese ci sono diversi vantaggi potete diventare membro gratuito quindi non dovrete più pagare i vostri versamenti mensili per la crociera poi guadagnate 350 come bonus istantaneo in più 250 come cruise dollar di producer bonus e potrete prenotare le crociere in omaggio e avendo più cruise dollar potete fare più crociere all'anno o potete andare in crociera prima soltanto invitando 5 amici in realtà questa formula oggi ormai utilizzano tantissime altre società in tanti altri settori anche linee telefoniche e compagnie telefoniche quando invitiamo un amico portiamo e ci regalano magari un po' di giga internet in più poi anche le compagnie televisive quando porti un amico non paghi tu e non paga tuo amico per un mese quindi lo stesso sistema ormai oggi è implicato applicato a tantissimi altri settori quindi qua basta portare 5 perché sono 5 persone che entrano nel club entrano nel club quindi per un anno metteranno da parte ovviamente sì anche di più perché tutti rimangono perché a tutti piace viaggiare pagare poco risparmiare o dopo diventare soci gratuiti e avere le crociere in omaggio e anche qua la stessa formula basta portare 5 membri e avere le crociere in omaggio poi questo bonus settimanale si chiama matching bonus e questo è stato fatto per incentivare le persone ad aiutare le persone che invitiamo e quindi qua si guadagna insieme ai vostri iscritti diretti e ai vostri persone in omaggio quindi questo bonus vi permette di guadagnare a voi lo stesso importe che guadagna nei vostri partner diretti quindi per sbloccare questo bonus bisogna accumulare 5 punti in una settimana prescrizione di un partner un altro punto e per un partner member due punti quindi poi bisogna accumulare questi 5 punti vostri quelli che invitate voi direttamente in un mese e dei vostri invitati quindi poi comunque noi martedì facciamo anche il training per i partner iscritti per andare un po' più nel dettaglio quindi noi preferiamo comunque far vedere tutto quanto poi nel dettaglio spiegare ancora faremo anche martedì quando sarete iscritti però intanto vedete comunque che ci sono questi bonus settimanali perché lavorare in gruppo e in squadra è comunque più facile più bello anche più divertente e in questo caso anche più vantaggioso quindi Club ha pensato anche incentivare le persone a lavorare insieme ad aiutarci a vicenda allora poi il bonus residuo che si può dire anche il bonus passivo giornaliero quindi anche questo sono viene riconosciuto il 5% da ogni membro di tutta la vostra squadra quindi per collocare questo reddito passivo di 5 dollari da ogni membro bisogna prima ci sono due condizioni prima bisogna diventare membro gratuita quindi invitare 5 membri o partner membri nel club e secondo aiutare almeno uno di questi nostri partner diretti a fare lo stesso diventare membro gratuito in questo modo si sblocca il primo livello quindi da tutti i membri attivi di questo livello si riceve 5 dollari nello stesso giorno il cui membro ha fatto il suo versamento della quota mensile appena il vostro secondo partner membro diventa un membro gratuito e si sblocca il secondo livello e così via fino a 20 livelli in profondità quindi noi siamo interessati ad aiutare le persone anche a diventare soci gratuiti loro saranno solo che contenti perché avranno le crociere in omaggio li abbiamo anche aiutati quindi veramente pensato tutto in modo molto intelligente molto bello così anche noi è più piacevole lavorare insieme condividere l'esperienza quindi qua il bonus non viene pagato per i membri gratuiti perché ogni membro gratuito ha portato altri 5 da quali invece riceverete 5 dollari quindi anche questo può essere molto vantaggioso e qua potete vedere vedere già tutti i titoli come si fa carriera diciamo nel club quindi sono soli da raggiungere la quantità dei membri che avete invitato quindi direttamente i vostri iscritti quindi di tutta la vostra squadra struttura rete quindi in questo caso il primo si chiama direttore marketing viene raggiunto quando la vostra squadra arriva a 30 persone quindi da quel momento in poi viene assegnato il reddito fissio mensile di 300 dollari quindi in questo caso sono qua sono 30 persone il volume è volume fatturato quindi 100 dollari per ogni membro per questo viene 3000 quindi 10% avete 300 in più c'è questo reddito passivo che se sono 30 persone se avete sbloccato tutti i livelli arriva a 150 quindi questo il reddito passivo è variabile quindi questo invece è fisso quindi andando più avanti appena la vostra squadra arriva a 100 persone ecco per esempio io da dicembre sono il direttore marketing mia mamma da dicembre è direttore marketing senior la sua squadra è arrivata già 100 persone e quindi per 100 persone in squadra c'è il reddito fisso mensile di 1000 dollari e il reddito passivo può arrivare fino ai 500 poi il prossimo c'è il direttore regionale con la squadra in 250 persone con reddito fisso 2500 ogni mese il passivo arriva fino ai 1250 poi c'è il direttore nazionale con 500 persone con reddito fisso mensile 5000 dollari questo mese una anche la persona che era all'inizio Marina Aronitz che era proprio tra i primi che ha portato il club in Europa lei questo mese ha raggiunto questo titolo con la sua squadra è arrivata 500 persone quindi abbiamo fatto tutti gli auguri a lei poi il prossimo è il direttore internazionale con la squadra che arriva a 1000 persone dove il reddito fisso è 10.000 dollari e il passivo arriva fino ai 5.000 e poi c'è il direttore esecutivo con la squadra di 2500 persone con il reddito fisso mensile 25.000 dollari e passiva fino a 12.000 e 5 la nostra oligaret nicenco che per adesso è un leader in Europa è una signora russa quindi lei già da due mesi che è arrivata a questo titolo quindi praticamente in poco meno di due anni in realtà si dedicata sicuramente a questo tanto tempo però ci ha voluto poco si ha lavorato tanto però solo in un anno e mezzo neanche due è arrivato a questi livelli quindi veramente sì le possibilità sono ottime e poi il prossimo l'ultimo consiglio dei direttori quando la società con bonus mensile 55.000 in più la società condivide il suo reddito quindi condivide 5% del del reddito aziendale quindi fa diventare come anche un po' socio azionista quindi questi il club è nuovo abbastanza ha due anni però in due anni sono già centinaia persone che non sono solo dentro hanno già fatto tanti viaggi adesso vi posso vedere far vedere anche abbiamo raccolto qualche slide di persone che conosciamo con le abbiamo viaggio che ci sono per esempio due sorelle tedesche da Berlino che hanno fatto già otto crociere e adesso altri due hanno prenotato adesso in marzo quindi tantissimo anche loro si sono soci gratuite perché hanno iniziato subito a lavorare in primo mese ha raggiunto un anello e ha raggiunto già il primo titolo perché già conoscevo un po' le vendite di rete ha fatto già qualcos'altro ero in contatto con tante persone e ha iniziato subito a condividere a promuovere e poi ovviamente si molto vantaggioso e quindi è andata molto bene ha fatto tantissimi viaggi quindi in Italia è nuovo e da poco perché partito dal Toadige però si è sviluppato di più nella lingua tedesca quindi è partito di più verso la Germania quindi in Germania si è sviluppato tanto è molto presente poi c'è questo gruppo spagnolo perché è partito direttamente da Miami quella linea perché loro sono a Miami in effetti quindi lì sono tante persone che parlano sia inglese che spagnolo quindi anche soci direttori finanziari anche lui di origine spagnola quindi hanno sviluppato molto anche i loro paesi di loro lingua quindi anche Sud America e tutto qua c'è anche la possibilità di avere start up veloce quindi per le persone che vogliono subito muoversi che magari lavorano già con qualche settore dove sono in contatto con tante persone diverse ogni giorno qualcuno che ha fatto anche vendita di rete o qualcuno che vuole semplicemente provare il settore del turismo per le crociere e quindi qua ci sono tanti bonus quindi chi riesce in un mese a costruire la squadra di 30 persone quindi ottiene alla fine 1000 dollari in più 1500 cruise dollari per le crociere e avrà anche subito raggiunge anche il reddito passivo di 300 euro ogni mese 300 dollari ogni mese quindi sì molto anche molto vantaggioso per le persone che vogliono approvare a fare muoversi un po' più velocemente vedere che succede fare una semplice anche prova perché non è che qua si parla di investimento quello che mettete considerate che due mesi l'importo non viene raddoppiato e altri mesi sarà raddoppiato però magari il tempo che è arrivato al terzo mese diventate già subito gratuito e in più avete anche il reddito quindi un mese uno per prova quindi per un mettendo primo mese 295 diventando partner member 200 avete comunque già per la vostra crociera quindi si può anche fare una prova ci provo un mese a promuoverlo mi impegno e poi vedo che succede quindi vedrete che sicuramente a tante persone piacerà perché una cosa molto bella una cosa trasparente ci sono già a chi interessa vi possiamo anche far vedere le altre testimonianze o far conoscere le persone che hanno già viaggiato che viaggiano e che viaggeranno quindi consiglio a tutti di non perdere l'occasione di provarci perché nelle peggiori delle ipotesi voi avrete le vostre crociere scontate del 50% quindi è comunque molto bello perché cerchiamo sempre in internet le offerte per i viaggi per le nostre vacanze quindi qua le avete su qualsiasi non dovete andare a cercarli dovete solo scegliere e pensare a quello che volete e andare dopo accumulare e dopo prenotarla quindi siamo sicuri che chi entra nel club dopo un po' inizia un po' a realizzare e capire e tutti poi dicono veramente è stato bello che quel giorno sia conosciuto questo club quindi vi inviteamo di unirci a noi di viaggiare smart con in cruises di unirci